Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, sentiamo cosa dice il nostro amato preside con il suo linguaggio tecnico, preciso, sobrio, neanche tanto involuto, direi abbastanza chiaro, un pochino faticoso e poi traduciamo. Siamo molto fiduciosi che entro il termine che ci siamo dati di fine marzo potremo presentare al Parlamento un provvedimento con l'accordo delle parti sociali, lo presenteremo comunque, speriamo di presentarlo con l'accordo delle parti sociali. Ecco, quello è il punto che differenzia i governi che decidono dai governi che non decidono, i governi che fanno sul serio dai governi che non fanno sul serio. Qual è il punto? Quello lì, se troviamo l'accordo con i sindacati e con la Confindustria per la legittima rappresentanza di interessi che è tipica dei sindacati e della Confindustria, noi siamo contenti, ma se non troviamo l'accordo e se giudichiamo però che ciò che vogliamo decidere, tradotto in soldoni, una maggiore libertà di licenziare i dipendenti, nella certezza che questa minore sicurezza del posto di lavoro porterà più posti di lavoro, perché solleverà chi deve decidere l'investimento del capitale, la guida, l'orientamento di una impresa a sentirsi più libero di assumere in quanto è più libero anche di licenziare. Questa decisione, rendere meno difficile, meno farraginoso, meno complesso, meno costoso il licenziamento dei dipendenti da parte degli imprenditori, mi rendo conto di pronunciare una parola, licenziamento molto sgradevole che ciascuno di noi non vorrebbe mai fosse, you are fired, come dicono gli americani, sei licenziato, sei bruciato, nessuno vorrebbe sentirsi dire una cosa di questo genere, è brutto, però in un sistema economico fondato sulla libertà di impresa purtroppo è anche vero che più c'è mobilità sociale, meno c'è sicurezza rigida di difesa del posto di lavoro esistente, più si creano posti di lavoro, più si aumenta la base di occupazione, soprattutto in direzione dei giovani, soprattutto in direzione dei settori che restano invece scoperti, precari, esclusi dal perimetro della famosa sicurezza sul lavoro. Comunque il punto fondamentale ripeto è questo, la concertazione va bene nel senso che si ascoltano dei pareri, delle opinioni, ma è anche qualcosa di più, si tratta, si negozia, si verifica su questo o quel punto se la decisione può essere più o meno compatibile con gli interessi rappresentati che sono parziali, poi in nome degli interessi generali di tutta la società che sono rappresentati dal Parlamento e non dai sindacati, uno può dire che sono simpatici i sindacati, mi sta simpatico il Parlamento, uno può dire quello che vuole, però questa è la realtà della politica nel suo significato profondo, allora lì no, si va avanti lo stesso. I sindacati modello europeo sono sempre stati nella storia degli ultimi 30-40 anni in un certo senso gli elementi frenanti, gli elementi conservatori sulla via di rivoluzioni di tipo liberale, ma non solo la Thatcher, la famosa Margaret Thatcher, la Lady di ferro alla quale è stato appena dedicato un film biografico con Meryl Streep, non solo lei che sfidò i minatori e li batte in un durissimo braccio di ferro, anche Gerhard Schröder, il predecessore di Angela Merkel e il vero autore del miracolo economico tedesco attuale, sapete com'è la disoccupazione in Germania? La disoccupazione in Germania è sotto il 5%, è una cosa che stupisce il mondo, c'è un regime di occupazione universale. Schröder aveva anche lui litigato con i sindacati di brutto e alla fine l'ha pagata perché il potere di veto dei sindacati, Schröder l'ha superato, ma poi ha perso le elezioni, ha dovuto fare la grande coalizione con la Merkel cancelliere e alla fine l'ha pagata. I sindacati hanno spesso agito da freno a queste decisioni di carattere generale ed è in fondo in qualche modo un po' il loro mestiere. I sindacati americani sono diversi, contrattano le condizioni di lavoro, non pretendono di decidere tutto a proposito della legislazione, non li verrebbe mai in mente di condizionare il Presidente o il Congresso, meglio ancora, che è quello che fa veramente la legislazione negli Stati Uniti d'America. Infatti i salari americani sono più alti, dove i sindacati fanno in un certo modo i salari sono più alti, dove i sindacati vengono battuti c'è meno disoccupazione, ma questo naturalmente non lo dico per dire che i sindacati sono l'ostacolo alla crescita, allo sviluppo. Dico che gli interessi che loro rappresentano, concepiti in un certo modo, fanno da ostacolo, da freno alla crescita e allo sviluppo o quantomeno alla creazione di lavoro, perché la fonte della creazione di lavoro è la decisione libera di un imprenditore di investire perché si sente sicuro che in caso di rischio potrà anche diminuire la stazza, la forza, lavoro impiegata nella sua impresa. Non è né triste ne allegro, è così, bisogna prenderne atto, pare che il governo ne prenda atto e che voglia andare avanti anche se ci sarà un veto sindacale. Una buona notizia, a domani!